Buona domenica a voi. Oggi, giornata gaudete, terza domenica d'avvento, ho deciso di non intervistare nessuno e non farvi conoscere nessuno che sia presente fisicamente accanto a me, ma ho deciso di portarvi in un posto che, nonostante la struttura, rappresenta gioia. La gioia, come ben sappiamo, è un frutto dello spirito come l'amore e questa persona che cercherò di farvi conoscere è un testimone di gioia, un testimone di gioia che non faceva altro che annunciare il Vangelo e dire che si può essere profeti, annunciatori e testimoni solo se si vive nella gioia e nella libertà del cuore. Siamo ad Alessano, comune di nascita di Don Tonino Bello, da poco venerabile. Venerabile che, come sappiamo, significa essere uomo buono, uomo giusto. Stiamo parlando di Don Tonino Bello che anche lui ha a che fare con i francescani in quanto terziario francescano. Siamo sulla tomba di Don Tonino Bello, luogo che vede centinaia e centinaia di pellegrini a pregare su questa tomba, a chiedere a Don Tonino grazie, a chiedere a Don Tonino luce. Questo è il luogo di sepoltura di Don Tonino Bello ma allo stesso tempo, come vi dicevo prima, è strutturato in modo che le persone, i gruppi, soprattutto chi viene in pellegrinaggio, può fermarsi qui e sostare in preghiera. Una vecchia valigia di cartone tipica nello stile di Don Tonino nei suoi viaggi dove metteva l'essenziale è diventato un luogo, un posto, un contenitore dove ognuno lascia il suo messaggio, la sua preghiera e all'interno della quale ci sono anche dei libri di Don Tonino per la meditazione in questi minuti, in queste ore di preghiera. In questa immagine invece possiamo vedere un quadro, una stampa diciamo così, della visita del Santo Padre sulla tomba del venerabile Don Tonino Bello nel 2018 in occasione del suo venticinquesimo anniversario dalla morte. Questo luogo di preghiera è caratterizzato da alcune frasi di Don Tonino, ama la gente, i poveri soprattutto e Gesù Cristo. Questo è il messaggio che continuamente Don Tonino ha lasciato nei suoi libri, nelle sue omelie e nei suoi racconti. In questo luogo, nella notte degli anniversari che riguardano Don Tonino, ci sono delle fiaccolate di preghiera e un percorso che viene fatto anche nell'arte. Come possiamo vedere da queste scritte, in piedi costruttori di pace e riferito anche al momento storico in cui Don Tonino fece parte anche di Pax Cristi, grande promotore, grande testimone della pace e dell'incontro con l'altro. So di avervi detto poca cosa, ma per noi Don Tonino è una figura molto importante e in fondo il legame con San Giovanni Rotondo, con Padre Pio e Francescani credo che sia insito nella sua vita in quanto, come forse vi ho già detto, era un terziario francescano. Quest'immagine che in lontananza ritrae il Papa e Don Tonino è per noi un grande messaggio di speranza e un grande messaggio di gioia appunto in questa domenica caratterizzata appunto dal Gaudete. E' questa la croce che ha accompagnato Don Tonino Bello nel suo mandato come vescovo nella diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Da Alessano è tutto, un abbraccio e buona domenica.